Ciao a tutte, sono tornata con un nuovo video e mi scuso subito se sentite rumori strani ma stanno facendo i lavori sopra da me e ogni tanto c'è martellate tra panate varie, spero non dia troppo fastidio nel video. Comunque, oggi ho deciso di fare un video diverso dal solito, ovvero di aprire una nuova rubrica settimanale che avevo già intrapreso anche nel mio blog, vi lascio comunque i link sotto del blog, che è la Makeup Collection. Ovvero non vi mostrerò solamente la mia collezione di make-up ma una volta a settimana vi mostrerò ogni singola categoria i prodotti che ho dando dei voti e appunto parlando bene al volo facendo delle mini review. Ho pensato, con un ragionamento logico, di iniziare dalla base, quindi dai fondotinta e BB cream, ma non so se questo ragionamento logico continuerà nel tempo perché odio seguire schemi e cose varie, quindi magari per se non ti parlerò di ombretti, non lo so. Inizio subito, intanto fatemi sapere anche se magari vi interessa vedere come ho organizzato i miei trucchi, tutti fondotinta e sono all'interno di questo cassettino che fa parte di una cassettiera dove ho tutti i miei trucchi. Vado per ordine, ero indecisa su come fare e ho deciso di partire da quello che mi piace di più a quello che mi piace meno e sono ripetitiva perché il mio fondotinta è l'assoluto preferito, è Light Coverage Mineral Foundation di neve, io ho la colorazione Light Rose, ve ne ho parlato anche nei top di giugno, ne avete sentito parlare ormai tanto da me e sapete che l'adoro perché è perfetto soprattutto per questa stagione, ma secondo me non solo, perché pur essendo in polvere ha veramente una buona coprenza, soprattutto se applicato con un flat bookie, una buonissima durata e mi piace molto l'effetto, oggi ce l'ho su, e mi piace moltissimo l'effetto naturale che lascia e quindi secondo me è davvero un fondotinta valido, io a lui do voto 9 e viene intorno ai 13 euro. Vado avanti, al secondo posto un altro fondotinta bio, che anzi non è un fondotinta ma è una BB cream ed è questa della Sobio, ci tengo a sottolineare che è quella con texture leggera, perché ho provato dei campioncini di quella normale, ma non mi ci sono trovata affatto bene perché sarà che non ho grandi problemi di pelle, ringraziando il cielo, e quindi non cerco una grandissima coprenza, anzi prediligo i prodotti abbastanza leggeri. Quella con la texture normale io l'ho trovata praticamente un fondotinta, una BB cream, era davvero coprente e corposa, quindi adatta a chi cerca questa texture, ma non adatta a me insomma, invece questa è davvero leggerissima, io la stendo con le mani, una spugnetta, un pennello insomma, e ha un'ottima durata, è davvero perfetta, ha anche un buon odore, naturale, non so come definirlo. Ci sono due colorazioni, ho la più chiara, la 01, e niente, questo ha completamente ingredienti naturali, e devo dire, questa l'ho comprata, mi sembra, intorno a febbraio, una cosa del genere, e da quando ho cominciato ad usare per la base i prodotti bio, la differenza si nota eccome, e ogni tanto quando non fa troppo caldo, la uso anche adesso d'estate, anche se non prediligo le basi in crema d'estate, perché mi danno un po' fastidio. Maledetti lavori! A questa BB Cream della Sobio do a voto 8, e viene intorno ai 13€ anche questa. All'inizio dico la verità, quando l'ho presa ho detto, cavolo, 13€ per 30ml di prodotto, mi sembra un po' esagerato, però effettivamente basta davvero una quantità minima di prodotto, e sarà neanche a metà, io l'ho utilizzata per l'interno da febbraio quasi tutti i giorni, quindi tranne adesso che uso di più il fondo minerale, però effettivamente dura, ecco. Abbiamo poi, a pari merito, questo fondotinta di Pupa, è fondotinta effetto lifting, anche protezione solare, e dico la verità, io questo l'uso veramente poco, l'ho utilizzata di più mia madre, c'è scritto, levica le piccole rughe e cancella i segni di stanchezza, e questo l'ho utilizzato, soprattutto per farvi un'idea, nel tutorial del pin-up, magari vi lascio il link, e certo su di me non vedo tanto la differenza, ma quando lo applica mia madre, sinceramente sì, perché comunque levica uniformemente la pelle, e la rende veramente più liscia, ma proprio visibile il cambiamento, certo, questo cambiamento c'è perché l'inci... Posso parlare? Perché l'inci non è anche dei migliori, eh? Però, magari per l'occasione speciale o cose varie, secondo me è veramente un ottimo fondotinta, e gli do 8, e viene all'incirca 15 euro. Noi questo l'avevamo comprato all'outlet, quindi l'avevamo pagato un po' meno, insomma. Poi, un altro fondotinta che mi piace molto è quest'altro minerale di Kiko, il Soft Focus Foundation, anche questo in polvere libera, e anche questo è davvero un buon fondotinta minerale, ha una media coprenza, comunque modulabile, e io ho la colorazione 03, ed è veramente buona anche questo. Una cosa che io odio è la spugnettina all'interno, che io non uso mai, la usa un po' più spesso mia madre, e quindi mi è un po' scomodo, perché comunque vado col pennellone da viso, e niente, però effettivamente è un buon fondotinta, ce l'ho da tantissimo, lo usiamo abbastanza spesso, e ancora ce n'è parecchio, e viene anche questo, se non sbaglio, intorno a 13, sì, 13,50 euro, e effettivamente è un buon fondotinta, perché non vuole una coprenza eccessiva, ma vuole qualcosa di leggero come base, e niente, io con questo do voto 8. Altro fondotinta che mi piace molto è questo della Essence, che vi ho ceduto anche nei prodotti low cost, vi lascio il link, lo Stay All Day, io ho la colorazione 20, soft nude, e nonostante sia comunque un fondotinta con siliconi, cose varie, a me piace tantissimo l'effetto, a parte che l'odore, ha un odore buonissimo, che non so descrivere sinceramente, e ha anche un'ottima durata, mi piace tanto l'effetto che fa sulla pelle, perché la rende davvero luminosa, liscia, e bello, mi piace molto, sta tra l'altro per finire, ma non penso nemmeno di ricomprarlo, perché, come ho detto, vedo molto la differenza, quando uso una base bio, e questo, gli do a 7, così è intorno a 4 euro, altra BB cream, è questa di Bottega Verde, perfezionatore globale, e trattamento idratante valorizzante, dico la verità, all'inizio ero convinta, che Bottega Verde, dal nome, avesse prodotti bio, e l'ho presa, perché l'avevo trovata in offerta, senza andare a guardare l'inci, l'inci fa schifo, però effettivamente, è una buona BB cream, io ho la colorazione natural, e a me piace, perché soprattutto in inverno, è un po' corposetta, però lascia un effetto molto, leggero, e non da fondotinta, appunto è una BB cream, e niente da dire in particolare, però per chi cerca una BB cream, con una coprenza media, che lascia comunque un effetto molto naturale, questa è davvero buona, non fa lucidare la pelle, perché ho questo problema, con le BB cream in genere, e quindi effettivamente è buona, gli do un 6,5, e apprezzo pieno, viene 16 euro, ma io l'ho presa in saldo, tipo 6-7 euro, e ora ci sono le due bocciatissime, una è la BB cream, Garnier, e ha la colorazione medium, a parte il fatto, che ho toppato alla grande, la colorazione, perché come vedete è scura per me, e è praticamente piena, perché come dicevo prima, appena la applico, a parte ha una durata pessima, dopo un po' mi chiazza la pelle, e mi lucida, cioè mi lucida in una maniera pazzesca, e ho la pelle mista, ma non tendo a lucidermi chissà che, invece questa mi fa lucidare anche tutto, cioè è veramente brutto l'effetto che fa, e tra l'altro ho letto nei vari blog, review varie, che non fa solo a me questo problema, quindi non so insomma, sta di fatto che è quasi piena, e non riesco ad utilizzarla, voto 4. Anche un bocciatissimo, è questo fondotinta a bottega verde, fondotinta not transfer, che mi è stato dato in omaggio, con un ordine, a parte che anche qui, oh, mi sono sporcata, il colore è sballatissimo, ecco, tanto ormai mi sono sporcata, ve lo faccio vedere, cioè è marrone praticamente, io sono bianca cadaverica, quindi non fa proprio per me, e a parte questo, anche questo, sto sporcando tutto, anche questo ha una tenuta pessima, una resa proprio brutta sulla pelle, sarà anche perché non è il mio colore, insomma, ma anche questo dopo un po', mi va a chiazzare la pelle, mi sono sporcata pure la maglia, va a chiazzare la pelle, quindi non mi piace per niente, anche a lui gli do un bel 4, questo per l'altro è il prezzo pieno, viene 18 euro, a me l'ho detto l'hanno dato in omaggio, ma assolutamente non lo comprerei mai, niente, questi sono i miei fondamenti a BB, mi so che non sono moltissimi, poi ho nel cassettino dei campioncini, io ho la mania dei campioncini, li adoro, li ho tutti divisi per categoria, ho una scatola con solo i campioncini viso, corpo, mani, piedi, cioè è allucinante, e quelli dei trucchi, li metto nei cassettini di ogni categoria, se no poi rischio che me li perdo, e non li uso, e ho dei campioncini da provare, che appena proverò vi farò sapere, uno è questo Clinique, dove dentro ci sono due campioncini, uno è l'anti blemish solution, e un altro, ah questa è una crema praticamente, vabbè questo invece è quello che ci interessa, ed è un fondotinta liquido, che proverò, e vi farò sapere, altro campioncino, che ho ricevuto tra l'altro pochi giorni fa, è questo Diego Dalla Palma, ed è, non mi sto storti, e questo Diego Dalla Palma, ed è un fondotinta fluido opaco, questo devo dire, sono curiosa di provarlo, perché con i prodotti Diego Dalla Palma, io mi trovo benissimo, sia con i capelli, ho anche due mini rossetti, e quindi sono davvero curiosa di questo, e ho poi una BB Cream, della Lavera, da provare, e un altro fondotinta, non che sapevo da vercelo, un altro, no fondotinta, campioncino, della BB Cream su bio, diciamo quella classica, magari riproverò ad usarla, usando anche meno prodotto, perché, ho detto, è parecchio corposa, secondo me, niente, ho finito questa prima puntata, della Makeup Collection, e spero vi possa piacere come idea, fatemi sapere con commenti e pollici in su, e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazze!